però non... un... capisco la pausa? esatto no 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 mettici la pausa lì è un attimo di pausa proprio un tatà però c'è ancora il suono del si benolo ci mancano i ru quarti va e fa ecco questo è cucicli un... un... do scusa un secondo facciamo che metti la base troppo serio ora e mai mangiare la pizza ma si oh oh si oh 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 Scennate. Ah, vuoi caricare io che non vivo? No, 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 fammelo, fammelo. Alla passione three, una scéta e un'ata di pare, una spraffuna un'ata di una scéta e dar di una scéta e dar Grazie a tutti. Grazie a tutti.